Ciao a tutte e tutti, sono Vladimir Luxuria, madrina del progetto Outside In, voluto dall'associazione No Profit Urban 2030. Quando parlo della cardiopinie mi emoziono, perché innanzitutto è stata una storia di una profonda amicizia, ma anche di una lotta che abbiamo fatto insieme. I primi Pride, le giornate mondiali contro le DS, gli eventi culturali. Una lotta che ci ha permesso di raggiungere dei traguardi importantissimi e sono felice che possa essere ricordata alla cardiopinie attraverso un murale secco sostenibile, il primo in Europa che riguarda la tematica LGBTQI+. Ho cominciato la mia militanza nel circolo di cultura omosessuale Mario Mieli dal 1984 e voglio sposare questa causa perché penso che sia di fondamentale importanza per continuare le nostre lotte. Urban 2030 è un'organizzazione No Profit che ha proprio l'obiettivo di affrontare certe tematiche e di vincere certe battaglie attraverso l'arte. La mission di Urban 2030 è quella di realizzare entro il mese di novembre un murales ecosostenibile sulla tematica LGBTQI+, grazie all'artista olandese JDL. Ma per fare questo abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, quindi vi chiediamo una donazione spontanea andando sulla piattaforma GoFammy. Questo muro è per me. Questo muro è per te. Devo convivere in questo corpo che è unico con due persone, quindi però ci entriamo bene insomma.